Ben ritrovati cari amici condomini a questo nuovo appuntamento di Pausa Condomini, un brecchio nella nostra giornata per parlare di condomini, di questioni condominali, oggi parleremo di amministratore, dell'incarico, della REV, tutto ciò che riguarda il mondo dell'amministrazione condominiale e lo faremo insieme al nostro esperto, l'avvocato Nicola Frivoli. Benvenuto Nicola. Buonasera. A Nicola vorrei girare una domanda che ci ha scritto un amico proprio ieri, leggo testualmente ho chiesto più volte all'amministratore la visione dei documenti di spese effettuate per ben 4 anni, puntualmente non mi ha dato risposta, non convoca l'assemblea per l'approvazione dei bilanci per ben 4 anni, il codice dice che l'amministratore deve convocare una riunione, ecco, avvocato Frivoli, diamo una mano a questo nostro amico che ci segue a casa, l'incarico dell'amministratore, la possibilità di vedere i documenti condominali, come avviene questa fase? È un diritto che spetta i condomini o invece l'amministratore può negare l'accesso ai documenti? È un diritto che spetta i condomini, con la riforma del 2013 è stato inserito nell'articolo 1130 bis del codice civile il comma 2 che consente a tutti i condomini il diritto di accesso ai documenti condominali, quindi prenderne visione oppure estrarne copia, quindi è un diritto normato che spetta, l'unico limite è chiaro che come noi sappiamo l'amministratore di condominio ha tutta la documentazione condominali per i 10 anni pregressi, quindi nei 10 anni pregressi, è chiaro che il condomino dovrà richiedere la documentazione necessaria ad esempio per esaminare il bilancio consuntivo da approvare nella successiva assemblea, quindi documenti inerenti il bilancio ma anche non inerenti purché non siano di ostacolo all'attività dell'amministratore di condominio. Certo, a volte si confonde la voglia di voler visionare gli atti con la voglia di conoscere il nominativo dei morosi, solitamente si ce l'ha questo. Questo è una nostra questione molto delicata che è una delle attribuzioni dell'amministratore nel caso in cui vi fossero morosi e vi fosse una richiesta da parte ad esempio di una ditta appaltatrice, così come è previsto nell'articolo 63, delle disposizioni di attuazione positiva deve comunicare l'elenco dei morosi, oltre che nella quota dell'inadempimento nel caso di contratto di appalto, ma anche proprio nella quota delle tabelle millesimiali spettanti. Certo, anche perché se si dà l'accesso alla visione dei documenti è impossibile nascondere il nome dei morosi. Assolutamente, però è un diritto che spetta, quindi un diritto che nel delegato caso fosse violato creerebbe anche problemi di mandato per l'amministratore di condominio, stiamo attenti, perché l'amministratore ha un contratto di mandato che stipula con il condominio ai sensi dell'articolo 1703 del codice civile seguenti e pertanto essendo mandato deve rispettare le regole. Questa è una forma di violazione della diligenza del buon padre di famiglia che potrebbe comportare come conseguenza anche una possibilità da parte dei condomini di poter chiedere o revoca assembleare o addirittura revoca giudiziale. Quindi il diniego all'accesso potrebbe rientrare in quei gravi motivi che comporterebbero successivamente la revoca. Ecco, quali sono gli altri motivi che possono comportare la revoca giudiziale? Allora, sempre la riforma ha indicato un elenco nell'articolo 1119,11 e 12 del codice civile, un elenco che non è definitivo, è un elenco sì normato ma non definitivo perché potrebbero esserci altri casi. Ricordo ad esempio la mancata approvazione del bilancio consuntivo del rendiconto entro 180 giorni. Possiamo rispondere al nostro amico che c'era 4 anni, è gravissima questa cosa qui e quindi questo è assolutamente motivo di revoca. Poi c'è un orientamento abbastanza radicato sul punto, addirittura reiterato nel tempo, quindi sicuramente è motivo di revoca sia assembleare e se nel delegato non fosse possibile, di natura assembleare è possibile rivolgersi al magistrato, quindi al tribunale in sede di volontaria giudizioni, al collegio e chiederne la revoca. Quindi la mancata, per così dire, convocazione dell'assemblea nei 180 giorni, così come previsto dal codice dell'articolo 1130 numero 10, che rientra proprio nelle attribuzioni dell'amministratore di condominio, è una gravissima violazione perché è prevista dalla norma. Quindi una violazione del genere comporterebbe una sicura revoca. Ecco Nicola, spieghiamo ai nostri amici che ci seguono da casa come avviene questa revoca. Cioè un condomino che ravvede una di queste ipotesi, cosa deve fare? Allora dipende dalle ipotesi. Potrebbe chiedere ai sensi dell'articolo 66 delle disposizioni di adottazione del codice civile una convocazione sul punto, quindi proprio una convocazione ad hoc per la revoca dell'amministratore e la nomina di un nuovo amministratore. Anzi, senza anche spiegare le ragioni della revoca, perché è nella facoltà del condominio revocare l'amministratore in qualsiasi momento dell'attività condominiale. Quindi l'amministratore ha 10 giorni per, in un certo senso, convocare l'assemblea sul punto e discutere in assemblea con il consesso se o meno siano fondate le richieste di revoca formulate dai condomini. Nel denegato caso questo non avvenisse, il condomino può addirittura in autoconvocazione convocare l'assemblea, in autoconvocazione revocare l'amministratore stesso. Se questo non dovesse avvenire, ovviamente c'è la possibilità del ricorso disciplinato di fiducia, quindi con ricorso ex articolo 64 delle disposizioni di adottazione del codice civile e rivolgersi alla competenza del tribunale in sede ecologiale in materia di volontaria giustizia. Quando si arriva alla richiesta della revoca, il tribunale nomina un altro amministratore. Può nominarlo il tribunale d'ufficio o può chiedere ai condomini di proporre un loro amministratore di fiducia? Sono due cose distinte e parallele. Lì parliamo dell'amministratore giudiziario. Noi facciamo ordine. Se io mi rivolgo dal magistrato per la revoca, il giudice valuterà la sussistenza dei presupposti. Se dovesse la sussistenza, emette decreto il quale potrebbe essere impugnato con reclamo innanzi alla Corte d'Appello competente nei dieci giorni successivi. E questo però, allo stesso tempo, non è possibile ricorrere in Cassazione in questa materia, perché è di volontaria giustizia. E quindi c'è la revoca. Invece, quindi, con la revoca cosa accadrebbe? L'amministratore revocato non può più candidarsi come nuovo amministratore per almeno un anno, così come è previsto nell'articolo 1129 del Codice Civile, 13. E quindi l'Assemblea dovrà nominarne un altro. Se nel delegato caso non ci dovesse essere questa possibilità, allora è possibile ricorrere sempre al Tribunale in sede di volontaria giustizioni, quindi in sede collegiale, e chiedere la nomina di un amministratore giudiziario, per, diciamo, sostituire il precedente. Per proseguire l'opera della gestione condominiale. Oppure possiamo anche avere la figura, visto che le abbiamo toccati tutti i passaggi, ad esempio anche la nomina di un amministratore ad acta, nel denegato caso in cui l'amministratore preesistente non dovesse eseguire, ad esempio, una deliberazione importante. Il condominio potrebbe rivolgersi al magistrato, e il magistrato, quindi sempre in quella sede, Tribunale, sede collegiale, e in ambito di volontaria giustizioni, nominare un'amministratore ad acta per quel atto non specifico, non concretizzato da parte dell'amministratore. Ad esempio, nella concretezza, dei lavori non eseguiti dall'amministratore non si sa perché, nonostante la presenza della delibera. Ecco, poniamo il caso che invece l'amministratore sia stato revocato ingiustamente, cioè il condominio ha deciso di revocare l'incarico attraverso una delibera assembleare, e l'amministratore revocato chieda un risarcimento del danno. È possibile questo, come è possibile il contrario? Nel senso è possibile questo, e come il condominio potrebbe chiedere il risarcimento del danno per malagestio, che ha tutta la nostra dinamica di venire. Quindi è possibile questo, ad esempio, il risarcimento potrebbe essere individuato anche in capo all'amministratore per il fatto di non essere stato, in un certo senso, versato il compenso fino a un certo periodo, oppure lui ritiene che il compenso sia da versarsi per l'intero periodo, anche in caso di revoca. Quella è una querel che poi si risolve davanti l'anza magistrato. Ma allo stesso tempo il condominio, ma allo stesso tempo i singoli condominio potrebbero agire contro l'amministratore dopo la revoca per malagestio. Hai toccato una questione, che è quella del compenso dell'amministratore, che spesso diventa oggetto di discussione. Ecco, quello che sentiamo di dirci ai condomini, anche agli amministratori di professioni, di indicare in maniera chiara, a verbale... Assolutamente, ma sempre, non solo in caso di nomina, stiamo attenti, perché questa è una querel molto viva a livello giurisprudenziale, stiamo attenti a questo passaggio. Una volta nominato l'amministratore, lui deve indicare in delibera l'importo del compenso, assolutamente all'IVA, alle mansioni ordinali, e nel contratto indicare tutto quello che è la sua attività specifica. Sì, assolutamente. Ogni volta che c'è la conferma, non la nomina, parliamo di conferma negli anni successivi, deve essere sempre indicato l'importo, perché quello purtroppo, secondo giurisprudenzia, ormai consolidata di merito, e non solo, è motivo di nullità della delibera, in mancanza di indicazione del compenso da parte dell'amministratore nel momento in cui dovesse essere nominato e confermato. La mancanza nell'atto collettivo di una specificazione del compenso è motivo di invalidità della delibera, per le stati e nullità. È giusto inserire anche la data del giorno del mese in cui l'amministratore deve percepire il compenso, o invece è lasciata libera alle parti la scelta di versare? Sì, credo che tutto è possibile, voglio dire, essendo un rapporto di mandato, possiamo specificare tutto, questo viene specificato prima anche dall'amministratore, però sai Sidoro, molte volte i condomi non sono attenti a questi passaggi, cioè l'amministratore si presenta, presenta il suo preventivo, vantaggioso o non vantaggioso, con tutta una serie di caratteristiche del suo curriculum, non si vede questi dettagli, perché io invece li ritengo rilevanti, perché specificare il compenso anche quando incassarlo è un modo di attenzionare, non dico di controllare l'amministratore, ma già di far intendere all'amministratore che ci sono dei condomini molto attenti che verificheranno la propria attività gestionale. Che magari potrebbe portare a quei motivi, anche delle eventuali richieste di risarcimento, un amministratore che non è stato pagato nella data indicata in delibera potrà magari lasciare il condomini, proporre le sue dimissioni, chiaramente se vengono accolte. Ti volevo precisare un passaggio che secondo me si collega molto bene, quindi già che l'abbiamo aperto al fronte, stiamo attenti però, perché l'amministratore di condominio, soprattutto quando ci sono situazioni di revoca o assembleare o di revoca giudiziale, ha problematiche in ordine le anticipazioni, le famose anticipazioni. Rimarchiamo questo appunto. Ricordiamoci che le anticipazioni dell'amministratore forse sicuramente saranno anche state versate, però se non vengono deliberate e indicate in bilancio, non potranno mai essere riconosciute, proprio da giurisprudenza consolidata, anche purtroppo dalla Suprema Corte. Quindi importantissimo che l'amministratore indichi sempre le anticipazioni fatte e non incassate dai condomini e le precisi nell'ambito del bilancio consuntivo nel momento in cui sia approvato. Nel momento in cui questo non dovesse essere fatto, l'amministratore sicuramente non potrà ottenere le anticipazioni espletate. Ecco, se l'amministratore che ha anticipato una somma di denari, nome per conto del condominio, lo porta all'ordine del giorno, lo documenta, l'Assemblea si rifiuta di approvarlo o comunque manda deserta la riunione facendo mancare il numero legale, cosa può fare quell'amministratore per potersi tutelare? Deve cercare di sempre documentare tutto. Quindi se lui deve provare in assoluto, quindi la prova è suo carico, del 2697 del Codice Civile, che i pagamenti sono stati effettuati direttamente dallo stesso, facciamo finta che, ad esempio, in cassa, nel conto corrente condominiale, il noto conto corrente condominiale, non vi siano somme, per dire le ragioni. Lui provvede ad esempio a pagare l'impresa di pulizie, perché in mancanza potrebbe intentare un'azione ingiuntiva nei confronti del condominio e anticipa direttamente. Quindi ci vorrà che cosa, una prova documentale, significa un bonifico, qualcosa che... Un bonifico, il titolo. Che ormai, come sappiamo, dal 2018, nell'ambito dei pagamenti condominiali devono essere tutti tracciati, non esiste più il pagamento contatto, anche se questa è una regola trovata la... Che nella prassi purtroppo non sempre accade. Nella prassi accade, voglio dire, fatta la legge è trovato l'inganno, quindi voglio dire, però è prevista dalla legge di bilancio, legge finanziaria del 2018 e questo non sempre viene rispettato. Quindi è comunque una mancanza dell'amministratura, perché l'amministratura, a mio parere, deve sempre tenere in considerazione i conti della gestione condominiale, quindi arrivare ad esempio a una cassa meno dello zero è un problema, deve essere molto attento a questo e quindi subito deve convocare un'assemblea per chiarire le situazioni. Quindi le sue anticipazioni non, purtroppo, non documentate, creerebbero, senza ratifica, e soprattutto ratifica, creerebbero dei problemi. Una valenza a livello anche legale, giudiziario, sperando ovviamente che non si arrivi... Certo, non potrà fare l'ingiunzione, dovrà fare un giudizio ordinario, però, ripeto, con la delibera, se c'è la delibera e la prevenzione del bilancio dove all'interno c'è l'indicazione della quarta parte delle anticipazioni approvato oltre che il compenso, se dovesse lasciare, per così dire, l'incarico per una dimissione straordinaria o per le proprie dimissioni o per una revoca, potrebbe sicuramente provare il compenso e le anticipazioni non ricevute. Io ti ringrazio, Nicola, per essere venuto qui nei nostri studi e averci dato queste importanti informazioni, sia per quanto riguarda il mondo degli amministratori condominiali anche per quanto riguarda i condomini come potersi tutelare. Grazie ancora e ti invitiamo a seguirci tutte le nostre puntate. Grazie a voi. Io questo invito giro a tutti voi a seguirci tutti i giorni in pausa condominio in onda alle ore 14.30 alle ore 22 sul canale Delta TV canale 83 del Digitale Terrestre e se avete delle domande o dei quesiti da porci potete scriverci all'indirizzo email redazionechiocciola oggicondominio punto blog oppure mandarci un messaggio al numero Whatsapp 333 4133 289 Grazie ancora e seguiteci alla prossima puntata e soprattutto auguro a tutti buon condominio.